caduta libera subisce uno stop e questo pare abbia innervosito non poco jerry scotti innanzitutto è bene spiegare che il game show di canale 5 non andrà in onda con le nuove puntate nel corso delle prossime settimane infatti i telespettatori si ritroveranno ad assistere alle repliche del programma tutti i giorni qual è il motivo di questa decisione la scelta presa da mediaset in occasione del campionato mondiale di calcio che si svolgerà in catar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 le reti televisive italiane come sicuramente anche quelle straniere hanno dovuto pensare a degli importanti cambiamenti nelle proprie programmazioni sebbene le partite del mondiale in catar 2022 saranno trasmesse in diretta su rai 1 canale 5 ha dovuto inevitabilmente fare delle modifiche nel palinsesto di novembre dicembre tra i vari cambiamenti come quello sul gf vip 7 c'è appunto quello riguardante caduta libera va precisato che il game show dal 15 ottobre sta andando in onda con le repliche il sabato e la domenica il sito di davide maggio riporta un retroscena sulla reazione che scotti avrebbe avuto di fronte a queste modifiche stando a quanto ci risulta il conduttore è piuttosto avvelenato per la decisione arrivata dai vertici mediaset jerry scotti avrebbe inoltre mostrato il suo disappunto nel corso della puntata andata in onda ieri ciò sarebbe accaduto nel momento in cui durante uno dei giochi la risposta corretta era la ruota mondiale si tratta dello spin off del gioco la ruota della fortuna che nell'estate 1994 aveva al timone mike buongiorno e che andava in onda su canale 5 nel corso dei mondiali in america c'era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo ad esempio potevano farlo anche quest'anno caduta libera mundial e infatti manderanno una casa nella praterina